L'amministrazione Melucci deve soltanto politicamente vergognarsi. La notte di Capodanno, la notte tra il 31 e l'1, non ci sarà alcuna festa di piazza nelle piazze tarantine. In tutta la Puglia ci sono, penso per esempio la troupe di RDS a Martina Franca, il DJ Ciccio Riccio a Carosino, ma giusto per nominare così qualcuno a Taranto nulla. Sarà un 31 notte triste di solitudine, le piazze spoglie mentre l'intera Italia, l'intera Puglia festeggia. Vedete non è un fatto soltanto folcloristico, fare manifestazioni del genere con artisti di livello nazionale e internazionale permette di promuovere la città, promuovere il turismo, far crescere l'immagine di Taranto. Questo non lo capisci sindaco Melucci, questo non lo capisci assessore alla cultura Fabiano Marti, questo non lo capisci caro assessore Fabrizio Manzulli allo sviluppo economico, al marketing, al turismo, non lo capite questo? Avete scialacquato danaro pubblico attraverso contributi a pioggia, ad associazioni, a varie realtà del territorio e avreste potuto tranquillamente investire una cifra certamente non esorbitante ma giusta, equa, congrua per dare ai tarantini una festa di capodanno che non doveva soltanto avere una funzione di svago e di divertimento ma doveva far crescere il territorio, doveva dare, doveva conferire una dimensione nazionale e internazionale a Taranto. Taranto è diventata nelle vostre mani una città provinciale e cosa si farà a Taranto? L'1 gennaio alle 20.30 una semplice esibizione musicale della nuova orchestra italiana all'interno del teatro della Villa Peripato, il teatro all'esterno, peraltro con un numero di posti limitato per cui una volta che si sarà esaurito non ci sarà più la possibilità di far accedere le persone. Dove arrivi, poni lo zippero, ti fermi. E poi il concerto di Capodanno la mattina al teatro Fusco. Signori, Taranto, una delle poche se non l'unica città in Puglia a non avere un Capodanno nelle piazze. Questa è l'amministrazione Melucci, questo è il sindaco fallimentare. Questo è il sindaco di una città che versa agli ultimi posti nelle graduatorie della vivibilità tra le varie province italiane. Non lo dico io, lo dicono illustri studiosi analisti del Sole 24 ore. Un Capodanno, una notte di San Silvestro triste per i Tarantini. E beh, cari Tarantini, avete voluto Melucci e ora tenetevelo. Niente festa di Capodanno.